Ciao a tutti, in questo video vorrei fare alcuni esercizi sui numeri complessi. Possiamo iniziare con qualcosa di molto semplice per ricordare alcuni aspetti. Preso un numero complesso, vediamo di scrivere quanto vale il suo modulo, qual è la parte reale e la parte immaginaria, scriviamo chi è il coniugato e l'inverso. La parte reale di questo numero è 1, la parte immaginaria di questo numero è il coefficiente in pratica che moltiplica la i, quindi è 1, il modulo non è nient'altro che la radice quadrata della parte reale al quadrato più la parte immaginaria al quadrato. Per scrivere z coniugato dobbiamo solo cambiare il segno alla parte immaginaria. Ricordo che l'inverso lo possiamo scrivere come z coniugato sul modulo di z al quadrato, perciò 1 meno i fratto 2. Questa non è una scrittura corretta, scriviamo 1 mezzo meno i un mezzo o analogamente 1 mezzo meno un mezzo i. Naturalmente se voglio scrivere l'inverso posso scrivere z alla meno 1 come 1 su z. z è 1 più i, moltiplichiamo e dividiamo per 1 meno i in modo tale da toglierci dal denominatore la i, somma per differenza, ovvero differenza di quadrati, 1 meno i al quadrato, quindi 1 più 1 e qui abbiamo 1 meno i. In definitiva abbiamo 1 meno i fratto 2 che è esattamente quello che abbiamo scritto sopra. Ok, ora proviamo a fare un'operazione tra numeri complessi, quindi sia z uguale a meno 2 più 3i e v doppio 1 meno 2i, calcoliamo z fratto v doppio. Ci sono più modi per fare questa operazione, la prima è quella di scrivere proprio direttamente meno 2 più 3i fratto 1 meno 2i ed eseguire, tra virgolette, la razionalizzazione, cioè moltiplicare e dividere per 1 più 2i, cioè per il coniugato di v doppio. E allora svolgendo i prodotti otteniamo meno 2 meno 4i più 3i meno 6, mentre a denominatore abbiamo 1 meno 4i al quadrato, quindi 1 più 4 che fa 5, risultato meno 8 meno i fratto 5, eccetera, eccetera nel senso che dobbiamo scriverlo in modo più corretto, però voglio far vedere un modo alternativo che ci porterà fino a questo punto e poi completeremo. noi possiamo vedere z fratto v doppio come z per l'inverso di v doppio, cioè possiamo fare z per v doppio coniugato fratto il modulo di v doppio al quadrato. Questo richiede di determinare il coniugato di v doppio che è 1 più 2i e allora abbiamo meno 2 più 3i che moltiplica 1 più 2i fratto il modulo di v doppio al quadrato, ma il modulo di v doppio è la radice quadrata di 1 più 4, quindi la radice di 5, il quadrato della radice di 5 è 5 e quindi ci troviamo in questa situazione, dobbiamo moltiplicare z per 1 più 2i come abbiamo fatto qui e otteniamo ovviamente lo stesso risultato. Per concludere questo è meno 8 quinti meno un quinto i. dato un certo numero complesso possiamo chiederci questo, può essere soluzione di x alla quarta meno 2x più i meno 1 uguale a 0? Questa è un'equazione di quarto grado che ammette 4 soluzioni, però dobbiamo vedere se 1 più i è soluzione, ma ragioniamo come si fa per le equazioni nei numeri reali. Se noi avessimo un'equazione nei numeri reali tipo questa, potremmo chiederci x uguale a 1 è soluzione? Sostituiamo al posto di x 1 e vediamo se è soluzione. In effetti se mettiamo 1 abbiamo 1 meno 2 più 1 e questo è soluzione. In questo caso al posto di x metteremo 1 più i e quindi faremo 1 più i alla quarta meno 2 che moltiplica 1 più i più i meno 1 e ci chiediamo se è uguale a 0. Ora qui potremmo utilizzare la forma trigonometrica o la forma esponenziale o direttamente la forma algebrica. Sono in grado di determinare la quarta potenza di 1 più i? Non è un problema, basta considerare 1 più i alla seconda tutto alla seconda. Questo è 1 più i alla quarta. E allora qui abbiamo 1 più 2i più i al quadrato tutto alla seconda. i al quadrato è chiaramente meno 1 quindi 1 meno 1 fa 0 e abbiamo 2i alla seconda che è 4i alla seconda cioè meno 4. Sostituisco quindi nell'equazione che sto verificando ottengo meno 4 meno 2 meno 2i più i meno 1. Mi chiedo se è uguale a 0. Beh meno 4 meno 2 fa meno 6 meno 6 meno 1 fa meno 7 meno 2i più i fa meno i. Quindi otteniamo meno 7 meno i che è diverso da 0. Quindi w non è soluzione di questa equazione. E se invece devo trovare le soluzioni di questa equazione come posso fare? Ma meno 4 è facile da scrivere in forma trigonometrica perché il modulo di meno 4 è uguale a 4. Questo è come se fosse 4 per il coseno di pi greco più i seno di pi greco. In effetti il seno di pi greco fa 0. Il coseno di pi greco è meno 1. 4 per meno 1 fa meno 4. In questo modo io posso scrivere che il modulo è uguale a 4. L'argomento teta è uguale a pi greco. Questo è l'argomento principale. Ora sappiamo che le soluzioni saranno della forma radice ennesima di ρ in questo caso radice quarta di ρ per coseno di teta più 2k pi greco su n più i seno di teta più 2k pi greco su n e allora nel nostro caso abbiamo x0 è la radice quarta del modulo cioè la radice quarta di 4 che è uguale alla radice quadrata di 2 per x con 0 vuol dire che k è uguale a 0 quindi k uguale a 0 vuol dire che abbiamo semplicemente teta su n quindi pi greco quarti analogamente qui. Il coseno di pi greco quarti è radice di 2 fratto 2 quindi abbiamo questo risultato che possiamo sviluppare e ci dà 1 più i poi mettiamo k uguale a 1 e otteniamo x1 sarà la radice quadrata di 2 per il coseno di questa volta dobbiamo fare pi greco più 2 pi greco fratto 4 quindi tre quarti pi greco. Risultato? Radice di 2 che moltiplica meno radice di 2 fratto 2 quindi abbiamo meno 1 il seno di tre quarti pi greco è uguale al seno di pi greco quarti perciò questo non cambia. Per quanto riguarda x2 metteremo k uguale a 2 e quindi qui avremo radice di 2 per il coseno di 5 quarti pi greco più i seno di 5 quarti pi greco siamo nel terzo quadrante coseno e seno hanno lo stesso valore ed è negativo quindi qui avremo meno 1 meno i e infine x3 sarà radice quadrata di 2 per il coseno di 7 quarti pi greco che è positivo più i seno di 7 quarti pi greco che invece è negativo e otteniamo 1 meno i. Faccio notare x3 è il coniugato di x0 x2 è il coniugato di x1 questo perché meno 4 è un numero reale e le soluzioni o radici si dispongono ai vertici di un quadrato perciò qui avremo x0 questa è una rotazione di pi greco quarti qui abbiamo x1 qui abbiamo x2 qui abbiamo x3 x3 è coniugato di x0 x2 è coniugato di x1 se uniamo otteniamo un quadrilatero ora vediamo una formula che può essere utile per risolvere un esercizio che vedremo in seguito questa formula ci dice che preso un numero complesso si ha che 1 più z più z alla seconda eccetera eccetera fino a z alla n è uguale a 1 meno z alla n più 1 fratto 1 meno z questa è una faccia che si presenta bene dal punto di vista della dimostrazione perché naturalmente utilizziamo l'induzione ora se n è uguale a 0 in realtà stiamo facendo nulla nel senso che se n è uguale a 0 z alla 0 fa 1 quindi abbiamo 1 e a secondo membro 1 meno z alla 1 quindi 1 meno z fratto 1 meno z quindi 1 uguale a 1 quindi se n è uguale a 0 siamo a posto ora consideriamo che questo sia vero fino a n e dobbiamo verificare che valga anche per n più 1 quindi scriviamo 1 più z più z alla n più z alla n più z alla n più 1 vogliamo verificare che questo ci dia 1 meno z alla n più 2 fratto 1 meno z come lo verifichiamo? beh, intanto scriviamo 1 più z più eccetera eccetera fino a z alla n lo possiamo scrivere visto che consideriamo valida la formula fino a n come 1 meno z alla n più 1 fratto 1 meno z a cui aggiungiamo z alla n più 1 ma allora facciamo un unico denominatore qui otteniamo 1 meno z alla n più 1 più z alla n più 1 per 1 meno z quindi z alla n più 1 meno z elevato a n più 2 questo e questo se ne vanno e abbiamo 1 meno z alla n più 2 fratto 1 meno z formula verificata a cosa serve questo? noi possiamo risolvere un esercizio di questo tipo vogliamo calcolare la sommatoria per k che va da 0 a un numero anche elevato quindi qui per esempio ho preso 2024 di meno un mezzo più i radice di 3 fratto 2 alla k ora questo numero è un numero un po' particolare che a volte viene indicato con j e allora lo chiamo j per comodità il suo modulo è uguale a 1 perché è la radice quadrata di un mezzo al quadrato più 3 quarti e la radice quadrata di 4 quarti è uguale alla radice quadrata di 1 l'argomento è tale per cui il coseno è uguale a meno un mezzo e il seno uguale a radice di 3 fratto 2 quindi siamo nel secondo quadrante questo è 2 terzi pi greco ma ricordando la formula che abbiamo appena dimostrato se io devo fare la sommatoria per k che va da 0 a 2024 di questo j alla k in realtà questo vuol dire che io sto facendo j alla 0 che fa 1 più j alla 1 più j alla seconda più eccetera eccetera j alla 2023 più j alla 2024 ma in base alla formula che abbiamo appena visto questo è 1 meno j elevato a 2024 più 1 fratto 1 meno j ora però quanto vale j alla 2025? noi possiamo considerare che 2025 è un multiplo di 3 basta sommare le cifre otteniamo 9 che è un multiplo di 3 quindi lo possiamo scrivere come 3n un generico 3n quindi j alla 2025 lo possiamo vedere come j alla 3n proprietà delle potenze j alla terza tutto alla n vi ricordo che in un video precedente parlando delle radici ennesime delle unità avevamo visto che la radice principale di 1 avevamo indicato x1 è uguale a 1 per il coseno di 2 pi greco su n dove n appunto è l'indice della radice più i seno di 2 pi greco su n ma se n è uguale a 3 abbiamo proprio il coseno di 2 terzi pi greco cioè l'argomento è 2 terzi pi greco qui il modulo è uguale a 1 questo vuol dire che j è una radice cubica di 1 spero sia chiaro questa è la formula generale per ottenere la radice principale ennesima di 1 stabilito che meno un mezzo più radice di 3 fratto 2i è una radice cubica di 1 j al cubo è uguale a 1 ma 1 alla n è uguale a 1 e allora otteniamo che 1 meno j alla 2025 fratto 1 meno j non è nient'altro che 1 meno 1 fratto 1 meno j cioè 0 nel prossimo video vedremo esercizi sulle equazioni complesse quindi vi saluto vi do appuntamento alla prossima ciao ciao